Ciao a tutti ragazzi di Jinba e benvenuti al mio secondo ed ultimo video tutorial sulle basi di league of legends il mio nome è quit108 e oggi vorrei dare un'occhiata insieme a voi al terminologia utilizzata in questo fantastico gioco quindi prendete una tazza di caffè e mettetevi comodi non sto scherzando andate a prenderla vi servirà dai andate io vi aspetto ok ora che siete sotto l'effetto della caffeina e quindi meno propense ad addormentarti possiamo lanciarci nella spiegazione partiamo dalle sezioni più comuni sui campi della league of legends ovvero il back il gank il teamfight il farm il push e il miss il back conosciuto anche come blue peel o più semplicemente come b serve per avvisare i nostri compagni che abbiamo premuto il tasto b e quindi stiamo tornando alla base di solito conviene farlo in un punto sicuro della mappa siccome ci vogliono circa 8 secondi per completare il back e se veniamo colpiti da qualsiasi cosa viene annullato il gank è un termine utilizzato per quando si tende una guata un avversario questa azione ha lo scopo di far credere all'avversario di essere al sicuro per poi uscire e stuprarlo ripetutamente assicurando quindi uno o due kill alla nostra squadra e un po' di tempo libero in lane per far male il teamfight come dice il nome avviene semplicemente quando le due squadre si radunano e combattono tutte assieme in un mortale spesso caotico 5 contro 5 il gioco di squadra in questi momenti è essenziale e di solito i teamfight sono i momenti decisivi per assicurare la vittoria alla nostra squadra ed accadono verso la fine della partita il farm è ciò che riempie i primi 15 o 20 minuti di una partita ed è il momento dove bisogna uccidere i piccoli e coccolosi minion dell'avversario per fare quanti più soldi possibili e al contempio bisogna cercare di evitare che l'avversario riesca a farmare quindi i last hits sono essenziali e per farvi capire che a che livello si può arrivare vi posso dire che un professionista riesce ad uccidere last hitare 100 minion nei primi 12 minuti di gioco ovviamente last hitare è molto importante perché ci dà un vantaggio in termini di soldi da spendere e quindi ci rende più forti dei nostri avversari è una tecnica molto difficile da padroneggiare però con un po di pratica si riesce ad arrivare al 70 per cento dei last hit il push avviene quando si attacca la torre avversaria e si cerca di tirarla giù questa azione può avvenire a tutti i stati della partita perché ovviamente tirare giù le torri è l'obiettivo finale di una partita di lol può anche succedere che un solo personaggio vada a pushare una torre mentre i suoi 4 compagni e i suoi 5 avversari sono impegnati in un team fight questa azione viene chiamata backdoor ed è fattibile solo con certi personaggi il miss è un fattore cruciale durante i primi minuti di gioco per comunicare con i propri compagni il fatto che nella nostra lane manca uno dei nostri avversari se non si chiama il miss infatti è molto possibile che le altre nostre lane siano a rischio gank mentre se chiamiamo il miss i nostri compagni possono arretrare un po e l'avversario perderà solo tempo di farm ed esperienza così impara ad andarsela a zonzo per la mappa come una fighetta per chiamare miss si utilizza il termine comune di ss o mia ovvero missing in action ok ora che abbiamo discusso i termini più comuni da utilizzare durante le nostre partite passiamo alle tipologie di champ che possiamo utilizzare i tank sono dei champion con molta vita e tendono a farsi item che si concentrano sul dagli vita armor e magic resistance e quindi diventano delle specie di carri armati da cui il nome tank sacrificando però il danno di solito hanno anche delle skill di crowd control ovvero delle skill che gli permettono in un modo in un altro di allontanare bloccare stonnare o tontare i nostri avversari tenendoli quindi lontani dai loro compagni che hanno meno vita ma fanno più danno i tank fungono anche da attivatori per i team fight poiché di solito sono loro a lanciarsi nei per primi in mezzo agli avversari seguiti poi dal loro team quindi date sempre retta al vostro tank gli ad carry sono dei champ che fanno danni fisici e che prendono questo nome perché trasportano la squadra verso la vittoria di solito vanno in bottom lane accompagnati da un supporter e sono loro quelli che più di tutti devono farmare e killare per diventare subito delle macchine di morte ben oleate di solito vengono preferiti dei champion che fanno danni dalla distanza per questo ruolo perché ovviamente sacrificano le proprie resistenze e la propria vita per un attacco più elevato gli api carry o midder sono di nome padrone del mid sono champion che fanno danni magici e danno lo stesso compito degli ad carry farmare come dei suini per poi fare danni che non hanno senso ed estirpare le anime degli avversari semplice no avere sia un ad carry farmato che un api carry farmato infatti mette il tank avversario in una situazione scomoda siccome non potrà massimizzare le proprie difese verso un tipo di danno perché prenderebbe troppi danni dall'altro carry quindi se siete dei tank fate molta attenzione a che danni ricevete e tankatevi di conseguenza i solo top sono di solito dei champ che hanno molta sostenibilità in linea ci sono vari tipi di solo top e non è in comune che questo ruolo venga ricoperto da un tank il loro lavoro è tenere viva la loro torre per farmare e diventare giga enormici di solito hanno skill che gli consentono di recuperare vita altre volte invece sono semplicemente talmente robusti da poter venire colpiti e non sentire neanche i colpi i supporter sono dei champ che si limitano a curare buffare e in genere fare da babysitter all'ad carry vanno quasi sempre in bottom e non farmano nessun minion un buon support infatti avrà lastitato circa 3 minion a 20 minuti di partita per superire a questa mancanza di fondi infatti tendono a fare item che gli danno dei soldi ogni 5-10 secondi e in pratica tengono al vivo il nostro ad carry per consentirgli di farmare senza andare back i jungler sono l'ultimo ingrediente del team mancano degli ingredienti a mio avviso più utili un jungler sacrifica il proprio farm e va quindi nella jungle fin dall'inizio lo scopo di questo champ è il lasciare libera la lane top che quindi diventa una solo top e quindi in questo modo consentire alla propria squadra di avere due lane dove i champion guadagnano più velocemente esperienza e soldi il jungler è oltretutto un champion che è sempre in miss quindi mette pressione psicologica agli avversari che dovranno spendere i propri soldi comprando delle world ovvero item che permettono di vedere una porzione di mappa per un po' di tempo e che quindi possono avvertire l'arrivo di un gank da parte del jungler il jungler infatti vive di gank e può essere ricoperto da diversi tipi di champion è buona norma però sapere che non tutti i personaggi possono giangolare solo alcuni ci riescono in modo efficiente quindi non pensate minimamente di dire mi faccio un jungle vegar perché mi toccherà venire personalmente a casa fossa per schiaffeggiarvi le rune e le masteries sono dei metodi per buffare i nostri champ fin dall'inizio della partita a livello 30 avremo 30 punti da spendere nelle nostre masteries e ogni champ ha una sua collocazione di masteries particolare che lo renderà ancora più barato le rune invece si dividono in tre tier le rune di tier 1 sono disponibili dal livello 1 a livello 10 le rune di tier 2 dal livello 10 a livello 20 e le rune di tier 3 dal livello 20 a livello 30 il mio consiglio spassionato è di non comprare rune finché non si è arrivati a livello 20 questo perché le rune di tier 3 sono ovviamente più potenti ma anche molto costose per il mio primo set di rune per esempio sono arrivato a spendere circa 12.000 spadine che si guadagnano giocando anche qui possiamo modificare le nostre rune in base ai champ che vogliamo giocare le rune si dividono in quattro tipi i marks i glyphs i seals e le quintessences i marks tendono ad essere più efficaci come rune d'attacco i seal come rune di difesa e glyph come rune magiche le quintessences sono solo tre ma danno degli ottimi buff di qualsiasi genere e con questo termino il tutorial sulle basi di league of legends spero di essere stato utile vi ricordo come sempre di iscrivervi a lol cliccando sul link in descrizione di commentare mettere mi piace ed iscrivervi al mio canale e a jimba network il mio nome è quit108 ciao a tutti